C'è un personaggio che ha lasciato un segno, una traccia importante e profonda nella vita dell'Abruzzo, con le sue iniziative lo ha aperto alla modernizzazione e allo sviluppo. Ha fatto tanto, si è speso per questa regione, per la sua terra, in tutta la sua dimensione, perché è stato più volte oggetto di polemica tra una parte e l'altra dell'Abruzzo. Devo dire che a distanza di tempo si può giudicare che lui ha guardato a tutta la regione la sua interezza, anche se naturalmente la sua presenza, la sua attività si svolgeva in una parte dell'Abruzzo. Ma oggi l'Aquila, che divende onore il capoluogo della regione, riassume la storia e l'attività di Remo Gaspari in tutta la sua dimensione regionale.